Ciao a tutti, sono Alice e bentornati sul nostro canale. Iniziamo con un po' di riscaldamento. Partiamo dal primo esercizio. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oggi inizieremo il nostro allenamento di braccia con 15 alzate laterali con bottiglia. Come altro esercizio, 15 precipiti con bottiglia. Grazie a tutti. Come ultimo esercizio faremo 10 pressioni pinte col saltello. Grazie a tutti. 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 Adesso facciamo 20 secondi di posizione in barchetta. La pancia devi toccare per terra, gambe e braccia in su, così. Grazie a tutti. Mettiamo il braccio, alziamo le gambe e alziamo il braccio. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. Arriba. Grazie a tutti. Noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci stendiamo, mani attaccate al pavimento, dopo prendiamo le gambe e le andiamo a portare nel pavimento sopra la nostra testa, così. Grazie a tutti. 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 Il secondo elemento è allungamento lombare. Grazie a tutti. Ora l'ultimo elemento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.